È dedicata alla Terra Santa l'intenzione di preghiera per la pace del 27 maggio prossimo e ricordo dello Spirito di Assisi, l'incontro interreligioso fortemente voluto da San Giovanni Paolo II nel 1986. Questo mese l'invito da parte del Padre Vescovo e della Commissione Diocesana per lo Spirito di Assisi è quello di pregare sin da subito senza attendere il 27, data la situazione di conflittualità in atto. Come ogni mese non è previsto un momento comune ma ognuno è invitato a pregare per questa intenzione in qualsiasi momento.